Benissimo, adesso che vi ho fatto vedere il movimento gambe-corpo e spostamento con i piedi, volevo però sottolineare una cosa, è ben differente questo tipo di lavoro da una schivata come potrebbe essere questa, perché questo tipo di schivata lo si fa in una maniera e questo in un'altra, qua sto proprio scendendo col corpo, quindi attenzione al tipo di schivata, sono due schivate diverse, una fatta con un lavoro in diagonale sul corpo, quindi usciamo dalla tagliettoria e una invece fatta con un'oscillazione, ok? Detto questo continuo con l'esercizio. Adesso metteremo anche i colpi, in questo caso mettiamo i diretti, quindi stesso lavoro, quindi di oscillazione, entro ed esco, ok? Ci aggiungo le braccia, ok? Da questo lavoro ci aggiungiamo le braccia, quindi uno, eh? Uno, due, oh, oh, questo lavoro, eh? Andando indietro uguale, è uguale, eh? Uno, due, tre, quattro, là, esco bene con le spalle, va bene? Sono lì, uno, due, tre, quattro, eh? Potete partire sia col destro che col sinistro, eh? Come volete voi, l'importante è scegliere sempre il lato giusto, eh? Uno, esco, due, esco, uno, esco, due, esco, due, esco, andiamo indietro, uguale, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, là, è importantissimo questo movimento, eh? Col corpo, bene.